Parlano degli anni 70, così tanto ballato, straballato in tutti i locali, sale da ballo, questa sera lo vogliamo proporre qua a Saveniano, non è nuovo, è una cosa abbastanza vecchiotta, ma sempre alla nostra maniera ricordiamo questo Santa Esmeralda, eccolo qua! Santa Esmeralda e con la tromba! La chitarra, Romagnolo Puro Sangue, e Nilo, La Chitarra, Romagnolo Puro Sangue, e Nilo, ragazzi attenzione che vi dovete preparare con le mani pronti a battere le mani voi attenzione eccolo presto forse ci siamo vai sulle mani semigliano ma che bravi animo ragazzi più forte attenzione le mani adesso raddoppiare il battito un, due, tre, quattro 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 e... due... due, tre...